Nel giorno dedicato alla memoria di San Martino, l'11 novembre, a Pianoro, è stato presentato il libro Lungo il Savena, di chiesa in chiesa, ultima opera di Don Orfeo Facchini. Si tratta di un corposo volume, oltre 650 pagine, che si pone come il naturale proseguo di un'altra opera del parroco di Pianoro, Andar per chiese e castelli, edito nel 93. Il testo rappresenta ad oggi il più grande archivio storico ed ecclesiale della religiosità della Valle del Savena, snodandosi in un ideale percorso che accompagna il lettore fra i borghi e le chiese che, nei secoli, hanno costituito il polmone della fede per queste comunità. Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Pianoro sono solo alcuni dei borghi di cui Don Orfeo Facchini ricostruisce la storia religiosa, attraverso le vicende architettoniche temporali delle loro chiese, ma anche fra feste tradizionali, luoghi e devozioni. Introdotto da una lettera di ringraziamento all'autore, scritta nel 2011 dall'allora arcivescovo Carlo Caffarra, nella quale il cardinale si dice contento per un'opera che custodisce l'opera di una storia semplice, ma non raramente eroica, il testo si pone come un itinerario proposto in collaborazione con il gruppo di studi Savena, Setta, Sambro, alla scoperta di antichi e nuovi tesori costruiti dal cristianesimo nei secoli passati e lasciati in eredità alle nuove generazioni. Un'opera storica e divulgativa per raccontare l'anima di questa particolare porzione della chiesa bolognese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.